Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua a un nuovo video. Cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere il Divum Espresso. Questo, vedete, della Divum, è una cosa un po' differente rispetto a quello a cui siamo abituati. Non è sempre il solito videogioco, console da gioco. Questo fa parte della stessa casa produttrice del nostro Divum Dito, che è questo qua, vedete? Che è quello che avevo fatto, avevo recensito la volta scorsa. E che cosa mi è stato mandato? Allora, questo mi è stato mandato direttamente dall'azienda, un'anteprima, perché non è ancora stato commercializzato. Probabilmente adesso, quando pubblicherò il video, sarà stato commercializzato. E che cos'è? Andiamo un attimo a vedere innanzitutto come si presenta. Si presenta in questo sacchettino molto, molto grazioso. Sul lato, vedete, c'è scritto, ci sono scritte tutte le caratteristiche del prodotto, quindi appunto un 4W output, audio output, output. Già qui capite che comunque stiamo parlando di qualcosa che suona. 5 ore di playtime, un design ultracompatto e bluetooth 5.0, radio FM, TF card, quindi transflash card, queste le chiamano così cinesi, in realtà sono le nostre classiche SD. e Vibrant Color Selection. Sul lato, sull'altro lato ci sono un codice a barre, sul lato inferiore altri codici e il lato posteriore appunto tutto un meccanismo. Andiamo un attimo a vedere l'interno ed ecco il nostro prodotto. Allora, si presenta in una scantolina molto, molto graziosa, appunto come vedete c'è scritto il nostro divum, ci sono delle informazioni anche qua sul frontale, ultimate music experience, quindi stiamo parlando di uno speaker bluetooth. Andiamo ad aprire la nostra confezione, vi faccio vedere dietro ci sono le stesse identiche informazioni che c'erano sulla nostra scatola, cioè sul nostro sacchettino, e andiamo ad aprire la nostra confezione. C'è una protezione in plastica e questo è il nostro speaker. C'è un'altra protezione in cartoncino superiore. Qua abbiamo il nostro speaker, veramente molto, molto piccolo, ma molto, molto grazioso nel design, come vedete. Molto, diciamo, steampunk come prodotto. Questa è la nostra confezione all'interno, abbiamo un'altra plastica e qui vediamo che sotto la plastica c'era il cavetto usb di tipo micro usb, un laccino da collegare sulla parte superiore del nostro speaker bluetooth, anche questo brandizzato divum, le istruzioni un certificato di garanzia cinese e questo invece che è un codice a barre per poter scaricare un'applicazione che vi dirò, è un'applicazione in cinese, non ne ho ben capito l'utilizzo, però vabbè. Nelle istruzioni invece ci sono scritte tutte quante le informazioni, anche in italiano, come vedete, sul nostro prodotto. come appunto fare la prima ascensione, la descrizione del prodotto, ti danno anche il benvenuto, eccetera, eccetera. Allora, questo speaker bluetooth è lo speaker più piccolo dell'azienda, prodotto dall'azienda. La qualità audio diciamo che è veramente, veramente molto buona. Adesso comunque andiamo a vedere quelle che sono le funzionalità di questo speaker. Allora, vi ricordo, questo qua aveva uno speaker da 10 watt, qua sopra. Questo invece ce l'ha da 4, però stiamo parlando di una cosa decisamente più piccola. Allora, la nostra accensione, perché è veramente particolare, non ci sono pulsanti sulla confezione, sulla scatola, come vedete, questo sullo speaker. C'è solamente scritto Divum, Espresso, le specifiche sul posteriore e questa è una gomma antiscivolo, quindi possiamo posizionarlo su una superficie e non si schioderà. Lateralmente, come vedete, non c'è nulla se non l'alloggiamento per la scheda SD e la presa per caricarlo. E frontalmente c'è tutto. Questo è il nostro speaker e questi sono i nostri pulsanti, queste rotelle, questi ingranaggi, sono i nostri pulsanti che noi utilizzeremo per accedere alle varie funzioni. Quindi, questo è il pulsante d'accensione, andiamo ad accenderlo. Come vedete, all'accensione si illumina di un colore la nostra rotella. Adesso, attualmente, c'è il colore azzurro. Il colore azzurro corrisponde al Bluetooth. Se noi andiamo a premere questo, questa qua, questa non è una vite, è un pulsante, possiamo switchare sulle varie funzioni. Se vedete, questo è il pulsante, questo è il colore bianco, è per la scheda SD, che io attualmente non ho, quindi appunto non vado a inserirla. Se premiamo ulteriormente, mi passa la radio. Vedete? Per cambiare stazione radio abbiamo questi due pulsanti, questi sono dei pulsanti, quindi andiamo a... Vedete? E così, appunto, noi andiamo a switchare la nostra radio. Ritorniamo alla selezione Bluetooth. Allora, io vi dico, per esempio, quando andiamo a fare la selezione delle stazioni FM, dobbiamo tenere schiacciato verso il basso questo pulsante, ok? Quindi vi faccio vedere, adesso non lo facciamo, ma se schiacciamo questo pulsante, vedete, in fondo, lui mi farà la ricerca delle stazioni. La prima avvio bisognerà fare questo. Configura tutte quante le stazioni audio, per cambiare le stazioni si usano questi due pulsanti, ok? Andiamo a connettere il nostro speaker a una sorgente Bluetooth. Andiamo a sentire un attimo una stazione radio, qualcosa appunto, sperando, come al solito, che non mi venga bloccato per via dei diritti d'autore. Abbiamo fatto partire la nostra strazione radio. Sentite come la musica è già molto potente, anche a basso volume. Come vedete, nel momento in cui si connette tramite Bluetooth, la luce rimane ferma. Adesso alziamo il volume e sentiamo un attimo come si sente. Sentite come il nostro audio, anche a volume alto, non si distorce assolutamente. Cioè, per essere uno speaker Bluetooth con una piccola cassa da 4 Watt è decisamente molto, molto, molto potente. E tiene decisamente un buon audio, senza distorsione. Poi, ovviamente, dal video sarà molto difficile che riusciate a comprendere la qualità dello speaker. Però, vi dico, così com'è, vi posso dire che il suono è molto corposo e molto, molto alto, anche senza distorsione. Ecco. E quindi, appunto, questa è la nostra cassa che si chiama, appunto, Divum Espresso. Poi, appunto, vi ho fatto vedere questo per cambiare le varie modalità. Quindi adesso siamo tornati di nuovo in radio. e per spegnere il nostro speaker andiamo semplicemente a switchare qui, su questo perno e appunto abbiamo, appunto, finito con la nostra recensione. Niente, con questo è tutto per la nostra recensione, il nostro video sul nostro speaker bluetooth, un qualcosa di diverso rispetto al solito, alle varie solite recensioni che vado a fare. Vi lascerò il link del prodotto per acquistarlo sotto al video, nei vari, nella descrizione. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, mi raccomando, al video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!